Torniamo a parlare subito di Grande Fratello VIP perché addirittura scatta il furto da parte di due ceffine ai danni di Matteo Diamante. Allora, capiamo un attimo questa situazione che all'interno della casa sembra essere proprio fuori controllo. Qualcuno certo prima o poi dovrà intervenire, ma con l'ingresso di questi nuovi concorrenti pare che la tensione sia ulteriormente aumentata. Probabilmente è anche sfuggita di mano agli autori che sì, volevano creare polemiche, volevano creare dinamiche ma non arrivare magari fino a questo punto. Proprio ultimamente alcune eliti hanno fatto alzare il livello di guardia, come quello tra Micolin Corvaia e Antonella Fiordelisi. Insomma, praticamente le due hanno messo in mezzo le rispettive storie d'amore, mettendo in scena una sorta di gara a chi durasse di più. Pensate a che livelli siamo. Ma non è passata inosservata neppure la discussione tra Matteo Diamante, Oriana Marzoli e Luca Onestini. Tutto è nato da un'osservazione di Onestini che ha riferito a Diamante che un bicchiere non era stato lavato bene. Da lì la situazione è ben presto degenerata con l'intervento della modella venezuelana che non ha fatto altro che rinfocolare gli animi. Proprio nelle ultime ore, poi, i telespettatori si sono resi conto di un gesto davvero inaspettato da parte di due concorrenti ai danni di Matteo. Sui social sta girando un video in cui si vedono Oriana Marzoli e Nicole Murgia a mettere le mani in un sacchetto destinato a Matteo Diamante. Ebbene le due jeffine sono state beccate dalle telecamere mentre rubano delle sigarette al coinquilino. Un comportamento davvero insolito, e neppure tanto furbo considerando la presenza di telecamere nella casa, come ben sanno tutti. Soprattutto Oriana, poi, non è la prima volta che si rende protagonista di atteggiamenti poco rispettosi nei confronti degli altri. In un primo momento Matteo Diamante non si è accorto di nulla. Intanto, però, c'è chi fa condanna il gesto delle due jeffine. Ecco. Il poni assieme alla mucca che rubano le sigarette a Matteo. Se questo non è provocare oltre che rubare. C'è anche chi fa notare. Ma tanto si rubano tutti a vicenda quindi che senso a fare polemica. Sarà, ma intanto il gesto fa discutere. Successivamente Matteo Diamante si è chiesto perché gli autori non gli avessero consegnato le sigarette. Oriana e Nicole, comunque, non sembrano essere intenzionate a confessare il loro gesto. Inoltre, mentre prendevano le sigarette, è passato lì vicino Luca Onestini che ha visto tutto, ma non le ha né fermate né tantomeno ha raccontato il fatto agli altri. Insomma, proprio una situazione strana. E c'è chi chiede che vengano presi provvedimenti contro le due concorrenti.